Tutto chiuso per la festa dei lavoratori. Arriva infatti una nuova serrata generale come per lo scorso 25 aprile. Il comune di Arezzo ha così disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli con la vendita automatizzata. Saranno permesse unicamente le attività di farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali, consentita anche la consegna a domicilio dei generi alimentari e di prima necessità, ma solo mediante prenotazione online o telefonica. Non sarà consentito così nemmeno il commercio di generi alimentari in area pubblica nel comune di Arezzo. Per il primo maggio arriva così lo stop anche ai mercati rionali di Sant'Agostino e Saione. Confermato invece il mercato del Giotto per sabato 2 maggio, limitatamente ai generi alimentari. Sempre nel fine settimana via libera anche all'asporto, ma nel rispetto delle disposizioni che prevedono l'ordinazione digitale o telefonica, l'ingresso contingentato per il ritiro dei prodotti, appuntamenti dilazionati con un solo cliente alla volta ed infine il divieto assoluto di consumazione sul posto.